La sensazione è che siano stati finora due giorni di grande complicità. Non si è trattato di un insegnante venuto a insegnare a degli allievi, ma un'apertura di un'officina, la mia officina di scrittore che nel produrre la propria creatività, i propri personaggi, le proprie storie, ha messo dei punti fermi su delle strutture del proprio narrare e io queste condivido. Ho da tempo focalizzato il mio interesse su alcuni elementi della scrittura, in particolare il colpo di scena che può sembrare riferibile solo a un genere che sappia di thriller e di noir, ma in realtà è una specificità della scrittura e del svilamento progressivo di elementi interni della storia che, se messi al centro di una narrazione proprio ideotica, possono allargarsi a una concezione totale dello scrivere. È un libro che sicuramente ha il femminile come motore che gli fa da cuore pulsante. È un libro che ha trovato innanzitutto un riscontro nelle lettrici, forse perché Ania rimanda a questa, è una fanciulla di vent'anni che ha la forza di dichiarare a se stessa l'amore che prova per un uomo di quasi 50, segnato da lipidessia, segnato da disastri economici e da qui è dovuta andare a lavorare come stenografa per scoprire che il suo datore di lavoro era l'autore più amato da suo padre e cheppure quest'autore è in grande disagio, ma lei da giovane stenografa fa il suo lavoro. Nel frattempo i due scoprono di essere indispensabili l'uno all'altra. Quello che a me importa è raccontare una poderosa storia di innamoramento innanzitutto e poi di progressiva, velocissima conoscenza l'un dell'altra e quindi diventa una storia d'amore a tutti gli affetti. Credo che questo festival abbia tutte le caratteristiche per poter riverberare non solo in una dimensione locale, italiana e nazionale, ma anche dare consapevolezza di sé altrove, all'estero. Quindi il mio augurio è che diventi un festival di respiro internazionale perché credo che le potenzialità ce le abbia.